Una delle tre associazioni che fanno parte dell'iniziativa. In cosa consiste in pratica questa elaborazione così originale? Allora, questa iniziativa fanno parte tre associazioni sul territorio fiorentino, quindi la Gabriele Borgogni, la Claudio Sciai e la Lorenzo Guarnieri e noi abbiamo chiesto a degli artisti italiani e stranieri di realizzare un'opera reinventando i segnali stradali, i cartelli stradali. L'abbiamo chiamato appunto segnali d'amore, abbiamo realizzato un calendario per tutto il prossimo anno in modo che questo possa essere in ogni ufficio, in ogni famiglia e che possa in qualche modo mettere un punto quotidiano su quello che è la problematica della sicurezza stradale.